Prima un'esperienza emozionante, vedere tutti i ragazzi qui a seguire e a partecipare a questa iniziativa e poi spero che sia la prima di tante, i primi anni si ripetano, e complimenti ai vincitori delle forze di studio e doniamo appunto alla scuola questo desideratore, nella speranza che non ci sia mai bisogno di utilizzarlo, però che possa salvare eventualmente la vita.